Musica Buongiorno a tutti, eccoci nel nuovo Superstore di Via Ducada Osta a Busto Arsizio Siamo arrivati, siamo in un contesto completamente cittadino, in centro della città Restituiamo finalmente ai cittadini di Busto Arsizio un negozio tra i più moderni, tra i più belli che abbiamo in Coppa Lombardia L'ingresso in questo supermercato è stato fantastico perché si respira un'aria di familiarità, professionalità, di grande attenzione per l'ambiente Fa un bel effetto lavorare qua, anche perché è un posto diverso dagli altri Impressione immediata, luminosità, grandezza, sicurezza e bellezza, molto bello, molto E' come entrare nel mondo che vorrei E beh, è un posto veramente bello, fatto bene, organizzato bene E' un ambiente totalmente moderno, fresco e innovativo Si parte proprio dall'inizio con il bar e anche un'area dedicata alla vendita di snack Soprattutto anche di smart food e quindi di cibi che fanno bene Per poi proseguire con un corner dedicato al sushi Un altro momento importante è quello di Emporio Casa Ovvero un'area dedicata al casalingo in partnership con Casanova, il leader del casalingo in Italia Veniteci a trovare perché ogni giorno abbiamo qualcosa di nuovo Perché siamo sorridenti e perché tutto ciò che offriamo è di qualità I prodotti a marchio COP sono oltre che buoni anche controllati Molto controllati perché le filiere dei vari prodotti sono certificati Come ad esempio l'olio d'oliva o i prodotti della linea origine, latte, le uova Mi piace COP perché rivolge un'attenzione particolare all'educazione, all'ecologia, al riciclo E' importante che lo faccia soprattutto con la parte giovanile che mi piace rappresentare nei miei 24 anni COP mi piace perché ha un grosso impegno nel territorio, nelle comunità locali, con le associazioni A supporto di tutto quello che si muove verso i bisogni della gente Mi piace COP perché è attenta alle persone che hanno dei bisogni ed è molto solidale con tutti Mi piace lavorare in COP perché ha uno spirito organizzativo molto bello Ma soprattutto lavoro di squadra Mi piace lavorare in COP perché siamo un gruppo, oltre che essere colleghi siamo un gruppo unito E davvero si sente il calore di quello che si sente in una famiglia Per me è un'esperienza emozionante perché partecipo a qualcosa fin dall'inizio, cosa che non mi è mai successa Facciamo del nostro meglio per essere una squadra e essere sempre al top vincenti Quindi ci impegneremo a migliorare giorno dopo giorno Un saluto a tutti i nostri soci Ciao E un bocca al lupo a tutti quanti per questa nuova esperienza Ciao soci Ti aspettiamo qua Ciao a tutti Ciao e buona, giusta spesa Ciao a tutti, la COP sei tu Taglia Scusatemi però qua ci sono troppe offerte, vado, ciao Ciao a tutti Ciao Grazie a tutti.